Sono oltre 190.000 euro quelli spesi per mettere in sicurezza il territorio della Valdinievole con tre interventi di somma urgenza sugli argini dei torrenti Borra, Pescia di Collodi e Pescia di Pescia. Interventi realizzati grazie alla collaborazione tra il Consorzio di Bonifica Basso Valdarno, Genio Civile Valdarno Centrale e Regione Toscana. I tre interventi sono stati presentati nella sede del Comune di Uzzano, dall'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni, dal Presidente del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno, Maurizio Ventavoli, alla presenza del Sindaco di Pescia, Oreste Giurlani, quello di Uzzano, Riccardo Franchi e dall'assessore Massimo Bicchi del Comune di Masse Cozzile. Lavori importanti fatti in un momento anche di emergenza e devo dire che questo è possibile grazie alla sinergia di organizzazioni ormai importanti e collaudate sul territorio come il Consorzio di Bonifica Basso Valdarno e il Genio Civile. Non dimentichiamoci che tutto questo è frutto di una profonda riforma che la Regione Toscana in questi anni ha portata avanti, di riorganizzazione delle strutture territoriali e operative, di messa a disposizione di risorse ingenti e chiaramente di attività di presidio del territorio condotta quotidianamente dagli esperti del settore. Sul torrente Pescia di Collodi è stato ricostruito un tratto di 55 metri di muro d'argine crollato, come sul torrente Borra, in località a margine coperta. Sul torrente Pescia di Pescia sono stati invece ripristinati 20 metri di cordolo di fondazione. Sono stati ricostruiti in pratica tre tratti di arginatura pensile situati in aree a protezione di zone molto antropizzate, sia per quanto riguarda la parte del Pescia di Collodi, sia per la Pescia di Pescia che per il torrente Borra, che è nell'area di Massa e Cozzina. I tre lavori di sommorgenza sono stati tutti effettuati dal Consorzio di Bonifica Regione Genio Civile nella seconda parte del 2019.